Musica 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 Da un attari We're a bust down Ok ok Ciao amici Scusate il ritardo ma Aspettavo da mangiare Ancora non è arrivato Arriverà a breve Te sei preso E alla fine Sono riuscito a piammer mac Ma è tipo l'unica roba L'unica roba aperta Zì L'unica roba aperta Regà Alle 21 e 17 Però era bello come orario Zì Allora dato che Le mie icon sono state buone Buone davvero Oggi parte una bet Molto strana Faccio partire una bet Più particolare Avevo fatto Mi ricordo Un milione e due Inizialmente Un milione e quattro Se fa un milione e mezzo Insieme Entrambe Un milione e mezzo De valuta Cioè De sommate Non è facile però Perché in realtà Se sono pure abbassate I cosi Se sono abbassati i prezzi Nel senso che Le due icon insieme Costano un milione e mezzo O più Nelle ultime Due icon Abbiamo trovato Nella prima Mataus Cioè nelle ultime quattro Abbiamo trovato Mataus e Zidane E le altre due Na merda Vabbè Non se lamentamo però Sei pronti Sopri Vai Dai non pretendemo tanto Noi qua Che ce frega Ormai siamo arrivati al punto Che in realtà Ce ne frega poco e niente Zì Ce frega poco e niente Zì Oddio non è che se vedete qua Il giocatore Ok no Perfetto Apri così Apri così Me sai R1 R1 71 De fisico 87 De elevazione 88 De resistenza 67 De forza Che è sta canzone 43 De difesa Però 92 Precisione De testa Che non è malaccio 94 De dribbling Con un ottimo dribbling 93 93 94 95 94 Solido 83 De passaggio Un po' sbocco Però non ce ne frega un cazzo 93 De tiro 91 Potenza tiro 98 De finalizzazione 87 Tiro distanza Velocità 95 De velocità Potrebbe essere Butra Chegno Potrebbe essere Butra Sì Emilio Emilio Buono Un milione Azz Azz Ok buono E già per ora Allora in realtà Già così è worth Perché I pacchi costano 550 mila crediti Quindi già con lui è worth E mo parte il prossimo Dobbiamo far mezzo milione Ragazzi Mezzo milione da sto pacco Per far vincere le win Ovviamente Speriamo bene Speriamo bene Non è che pretendo molto A me manderebbe bene Un Ronaldinho Sì Ronaldinho manderebbe più che bene 86 Fisico Tanto 86 De fisico 87 Elevazione 84 De resistenza 91 De forza 76 Aggressività 41 De difesa Però 98 De precisione De testa Il tronco Ok Ok Camel Camel La betta è loss Tocca pagare loss Il cammello ragazzi E te fa pure Stai zitto Te fa pure De sta zitto Il cammello Sì Te fa pure De sta zitto Lele Vabbè dai Con Budrakenio Ci posso stare Perché alla fine Mi sono comunque Ripagato i pacchi Cioè solo Budrakenio Ha praticamente Ripagato i pacchi Che è tutta sta gente Nel party Che c'avemo Posso dire una cosa Vi iscrivete al canale Cioè non è possibile Che porco due Il cinquanta e passa Per cento De persone Che guardano i video Miei Non è iscritta Regà Cioè ma vi rendete conto Vi rendete conto 50% De quelli Che guardano i video Mortacci vostri Cliccate quell'iscriviti Attiva quella campanella E vattene a Fanculo Porco Ma che ci stanno Le icon Qua Sette persone Sono cinque Poi in realtà Cinque So i concine Se so cinque con E le famo subito Però sono Ho premi WL Ah però anche premi WL Vai 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 Va bene va bene Va bene Lo faccio subito E dopo vado a fare la weekend league Voglio vedere i premi della weekend league Quei tots rossi So curioso Allora Auzada Quanto non mi apri Scula me è dualiva Pronto? Sei pronto? Ma che è il filo? Era il filo? Eh sì che è il filo È da un po' filo È da un po' amo Filo te becchia a bet Te becchia a bet E cos'è qual è la bet Questo costa meno di 400k Sì o no? Non guarda eh patato Non guarda eh Mi raccomando filo Chippetto Dai dacciolo duro Dacciolo duro 73 de fisico 87 resistenza 81 elevazione 70 de forza Aggressività 57 59 de difesa 59 de difesa Mi sa d'esterno però Perché è alta come difesa 98 de dribbling Potrebbe essere George 87 passaggio 93 de tiro E 95 de velocità Questo è best Questo è best Giorgio il migliore Sì Milione e due Milione e due amici Che culo Tanta roba sì Europeo sì o no Regà la Nigeria non vale La Nigeria sta in Europa regà Allora la Nigeria in Europa E la Russia in Europa E anche l'Inghilterra in Europa No no sto a scherzare Sto a scherzare L'Inghilterra no però L'Inghilterra vale come Europa Guarda 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 sto maniaco Guardalo Guarda questo maniaco di Antoblo Guarda che maniaco Anto E tu dirai Olè E aspetta Olè Portacci di Anto Fammi vedere un po' Che c'hai? Che c'hai? Pure te c'hai C'hai Icon pure oggi? No non ti trovo niente La bet vale quella di prima Regà No capping Me fai un cazzo Non la guardai Anto Anto non la guarda Non la guarda Frate Chi gli manca? Il centrocampista Bono Tipo invierà Che dici? Invierà? Penso R9 doppione Beh questo è un bel fisico però se ci pensi eh Questo è un bel fisichetto zio 88 di fisico è grosso E 93 di difesa è tanto 68 di dribbling è un po' una merda È un difensore questo Questo è un difensore 69 di passaggio 51 di tiro 85 di velocità Lo sai che potrebbe essere Marcello? Potrebbe essere Marcello de Seillier O Ferdinand Beh ragazzi ma che culo che c'hai Anto Anto c'hai in culo? Boh cazzo cane Ovviamente bet europeo se o no esce l'Inghilterra Dove poi si dovrà ricreare l'ennesima discussione Del fatto che noi l'Inghilterra la consideriamo Europa Perché localizzandola sulla cartina geografica Comunque non è che uscendo dall'Europa Politicamente si è spostata dalla cartina geografica Quindi dobbiamo riparlare un'altra volta della posizione E del fatto che comunque basiamo su quello Quindi un'altra volta dobbiamo ripartire su quello Sta una riga grigia sullo schermo Sì è Dua Lipa che si è nascosta È un po' timida oggi I go moments only Ok amore let's go Solo ecca acqua Ecca acqua Lo sai come la faccio? La faccio dura Questa è italiano sì o no Mannala Solo Itas E Itas sì o no Questa può essere una di quelle bet Dove tutti giocano il contrario E chi se gioca il sì Prega Perché qui chi se gioca il sì In caso di vittoria del sì Mortiplica bene eh Mortiplica bene qui eh In caso di sì si mortiplica bene 84 di fisico 51 elevazione Guarda che con 84 di fisico e 51 di elevazione A me mi viene in mente soltanto a Pierzanetti Penso che mi basti quel 51 Per sapere che sapere chi è 91 di difesa 87 di dribbling 89 di passaggio 73 di tiro 89 di velocità Signori Il capitano Avier Zanetti Non è italiano? Quasi Capitano Avier Purtroppo non è italiano Ma ormai quasi italiano Più italiano di molti italiani Avier 86 più Voglio due dots Neuer Skorupski Buono 20% Eh vorrei bendino Oh E il tuo tipo ne me mancava eh Il tuo tipo me mancava sì 25 dots trovati sull'account mio Il tuo tipo dire Non è male Devo togliere Dualipa C'è stata la striscia È vero La striscia Dualipa Guarda Fare la colonna in mezzo alla stream La striscia Dualipa è diventata una colonna Tipo che arreda la stream 92 più sì o no Mannala va Vai Se è 92 vale win ovviamente Come tutte le robe di sempre 92 più eccetera 89 di fisico Ma non è lo stesso nostro di prima? Ho sbaglio 89, 93, 87, 87 Buono 83 di difesa Quindi è tipo un centrocampista È un centrocampista questo Oppure Sì no Un centrocampista per forza 87 di dribbling Non lo so perché mi puzza Tipo o de O de Gerrard Vediamo 90 passaggio Secondo me potrebbe essere Steven Gerrard O Ballack pure Bravi 92 di tiro Ammazza che tiretto 96 tiro distanza Ah 43 di velocità Ballack 92 GG Vabbè non è male Ballack l'abbiamo provato Mi sembra noi eh Mi sembra che Ballack L'abbiamo provato È pure buono in realtà È pure buono Perché mi piace Senza te non posso stare Voglio troppo bene Io venga Do stai tu Facchetto momenti Icona Ultima bet ragazzi 800k più Sì o no O no Ritera a crepapelle 82 di fisico Regà Non me pare tanto Non me pare tanto 39 di difesa Vabbè garrincia 92 di passaggio 93 di tiro 94 di velocità È garrincia Sì 800k Sono tanti Ronaldinho Ole Che culo Sì o cane Va ta A mettere squadra Ronaldinho Volevi consigli Squadra Ecco Tocca cambia modulo Ok Grazie a te Ti amo Un grande bacio Ti amo Penetrami Messaggio Dopo Ronaldinho Ole Ed 1 1 1 1 2 1 2 2 7 6 Grazie a tutti